Benvenuti, benvenuti cari amici, siamo Bt con questo nuovo video. Naturalmente come sempre ricordo di suggerire il like, di iscrivervi il canale, di iscrivervi anche nel Instagram. Bitcoin sta letteralmente esplodendo, abbiamo raggiunto la zona dei 59.000 dollari, ma soprattutto un nuovo trend sta letteralmente esplodendo. Quello di Meme Token, stiamo vedendo in questa fase di mercato come Pepe addirittura ha fatto il più 60% in un solo giorno, quindi dopo ieri, dopo aver già fatto un 50%, oggi Pepe si sta ripetendo un altro 60%. Per cui all'interno in questo video andremo a vedere tutto quello che sta succedendo e per cui iniziamo subito. Per cui andiamo a vedere quello che sta avvenendo su Bitcoin in questo momento prezzo di 59.327 dollari, veramente un pazzesco quello che sta avvenendo su Bitcoin se andate a prendere proprio in questo momento una importantissima resistenza, quella dei 59.300 dollari, che vi ricordo in passato andò a decretare letteralmente quello che poi fu il bear market, ma dal mio punto di vista esattamente il 31 ottobre 2022 è iniziato il bull market, con conferma poi della rottura di 48, abbiamo parlato come il livello di 48 era un importantissimo spartiacque, spartiacque che c'è stato e ora stiamo letteralmente volando, stiamo volando e attenzione perché nel caso dovesse arrivare, ok, rottura con volumi dei 59.5, ma rottura forte, il prossimo target addirittura potrebbe essere primo, quelli di 64.000, secondo quello dell'Oltamai, cioè dei 69.000 dollari, se andremo in Oltamai andremo a vederlo, probabilmente ci sarà un retest, ok, non escludo perché l'abbiamo già visto in passato come ci sono stati importantissimi retest dei precedenti Oltamai, in particolare qui 20.000 dollari, vi ricordate quelli del 2017, successivamente Dampone a 17.000, ovviamente qua eravamo nel 2020 per poi prendere ed esplodere, quindi non escludo che in caso di raggiungimento Oltamai che oramai sembra imminente, non possiamo avere poi magari proprio un retouch in zona dei 60.000 dollari, ok, quindi i livelli attuali potremmo poi retacciare in quelle zone là, quindi andremo a vedere, però i volumi in questo momento sono molto molto forti e io vi dico ragazzi, sono iper mega bullish in questa fase di mercato, soprattutto andremo a vedere anche poi sulle altcoins. Poi per quanto riguarda il giornaliero, vediamo che proprio se andate a prendere questa importantissima resistenza, quindi qua ci giochiamo praticamente tutto, per chi tra dalleva, ma gli sarebbe interessante andare a aprire oltre, ok, a questo livello, potenzialmente anche in zona 60, se diciamo attuate le leve, noi interno del gruppo cowboy, stanno facendo gain pazzeschi, sia spot, ovviamente c'è bella sia strategia spot, che leva, quindi se anche tu vuoi imparare di più, capire anche di più questo mondo, ti ricordo e poi per notare tutto quel gratuita, trovi sotto il link in descrizione e soprattutto volevo mostrarvi anche quello che sta venendo su One Hour. One Hour che attenzione sta tenendo, abbiamo la media 20 che in questa fase di mercato, guardate qui, ci sta facendo letteralmente a supporto e in questo momento la media 20 sta sui 58, quindi peggiore ipotesi, potremmo andare a ritacciare zona dei 58, sì è possibile, ok, nel brevissimo, però ogni dip sembra interessante, ok, per aprire e soprattutto ve lo sto dicendo a leva, ovviamente se non sapete cosa implica tutto questo, lasciate perdere, però si possono fare gran bitcoin, ve lo dico subito, è molto molto interessante. Dopo andiamo a vedere anche quello che ci dice Stock Money Lizards, perché dal suo punto di vista, in caso di rottura, per l'appunto di 60.000 dollari, potremmo poi andare ad attaccare oltamai in zona 69, fino ad arrivare a zona 84, che è addirittura dopo l'albing, questo è quello che ci dice Stock Money Lizards, e se andiamo a vedere proprio il livello dei 53.000 dollari, che era una importantissima resistenza, potremmo vedere in futuro un 20% in più. 20% in più che cosa potrebbe comportare, proprio con il livello che avevo detto, cioè in caso di rottura dei 59.500 dollari, raggiungimento di 64.000, ok, questo è un po' quello che ci dice Stock Money. Poi, non so se vi ricordate, io stavo seguendo già tantissimo tempo Ethereum, Ethereum è oramai più che adesso, sembra avviato verso i 3.600, dove c'è in questa importantissima resistenza, proprio qui vedremo se l'Italander Payne, sembra oramai scontato, potremmo così definirlo, questo target, e vediamo che insomma Ethereum sta pompando day after day, insomma, sembra che nessuno sia capace di fermarlo. Vero anche che Ethereum contro Bitcoin si è ancora deboli, abbiamo questo supportone in zona a 5 centesimi, quindi insomma un Ethereum che può fare ancora molto molto bene nei confronti di Bit, abbiamo questa trainera scendente in lungo periodo, quindi secondo me Ethereum deve iniziare a performare Bitcoin, ma prima di andare a vedere il settore al coin, ti ricordo, perché domani ci sarà un evento pazzesco, 29 febbraio, ore 21, pumpa, sbanca e scampa, mi raccomando, andremo a vedere quello che è il settore letteralmente dei gaming, una nuova narrativa che potrebbe, no potrebbe, secondo me farà numeri pazzeschi, per cui ti ricordo, iscriviti, ti lascio il story link in descrizione, metti nome, metti tutto, e poi ti invio la live via mail, per cui ti ricordo, 29 febbraio, ore 21, in più se stai tradando, ti ricordo anche, c'è la super promo, io sto utilizzando Bitget, vedi qui, insomma, è un exchange che utilizzo e te lo lascio, perché ragazzi avete fino a 50 dollari bonus, semplicemente andando a tradare 10.000 dollari, quindi veramente, secondo me, molto molto interessante. Poi andiamo a vedere quello che sta avvenendo sulla Total, Total anche qui, se andate a prendere un'importantissima resistenza, è sulla Total di 2.15 trillion, vi ricordo, oltre a mail della Total, eccolo qua, a 3 trillion, quindi siamo un po' lontani ancora, però vediamo se andremo a rompere questa resistenza, quindi di fondamentale importanza, quello che avverrà da qui a poco, ragazzi, vi lo dico e ribadisco, se Bit va a rompere i 60.000 dollari, qua rompiamo e possiamo avvicinarsi ai 3 trillion, ok? Il livello successivo sarà questo, ve lo mostro subito, quello dei 2.5 trillion, ok? Quindi vedremo se questa avverrà, abbiamo ancora spazio, quindi, insomma, direi molto molto interessante l'action, in questo momento anche sulla Total 1, ma soprattutto è la Total 2, Total 2 sta spingendo, io vi ho detto più volte come il prossimo target poteva essere quello di 1.27 trillion, che avevamo avuto consolidamento, double bottom, zona 4.45 miliardi e poi abbiamo preso e siamo esplosi, quindi attenzione al prossimo target che anche qua 1.27 trillion potrebbe essere presto raggiunto, quindi alcoin che possono letteralmente esplodere. Dopodiché andiamo a vedere anche questo grafico di stock monies, praticamente lui prende delle bubble, ok? Per cui saranno i prossimi cicli di mercato e la prossima bubble potrebbe portarci, vedete qui, a un massimo, lui dice, di 5.4 trillion, sulletto da 2. Al precedente bull market abbiamo fatto 1.75 trillion, sulletto da 2, quindi lui afferma che potremmo avere un 3x dai massimi, attenzione ai massimi. In questo momento siamo 1 trillion, quindi capite come un 5.5x medio è fattibile, ok? In questa fase di mercato, quindi ovviamente dovete stare sulle alcoin giuste, però direi che è più che fattibile, questo è quello che ci dice stock money. Dopodiché, total 3, total 3, qua siamo su una importantissima resistenza, quella dei praticamente 600 miliardi, quindi andremo a vedere se andremo a breccarla, però secondo me le alcoin devono ancora letteralmente partire. Vediamo come in generale sulle alcoin siamo molto più sotto rispetto a bit, anche giusto per dare un'idea. Il raggiungimento dell'olta mai delle alcoin sarebbe praticamente un 2x, il raggiungimento dell'olta mai di bit un 20%, quindi alcoin che vedete anche dei grafici a livello RSI, tutti gli indicatori, siamo ancora molto indietro. E volevo mostrarvi anche quello che è avvenuto nel 2020-2021, dove potremmo trovarci. E potremmo proprio trovarci in questa zona qua, cioè appena gli inizi di quello che sarà il bull market. Quindi vedremo, ci può essere una correzione, ci può essere, ma insomma siamo belli carichi, ok? Questo è un po' il discorso. Poi altro settore che è stracarico, ti ricordo ancora una volta quello del gaming, andiamo a vederlo domani ore 21, ti lascio il link in descrizione, vediamo comunque un gaming che va a fare più 4.4% medio su giornaliero, Galea che sta risplodendo, Galea che è letteralmente invertito, quindi insomma seguite anche Galea, ma soprattutto i meme token, chi è dentro al gruppo Cowboy sa come i meme token stanno spingendo, guardate i pepe più 15.3% su One Hour, 61% sul giornaliero, assurdo pepe, Shiba sembra ritornare, Dogecoin sembra ritornare, vi ricordo Dogecoin e Shiba sono i pilastri del mondo meme, però vediamo in generale come insomma un po' tutti, a parte CoreJEE, stanno facendo numeri, quindi attenzione ragazzi a questo settore, io ne ho più volte parlato, anche dentro al gruppo Cowboy sono contentissimi perché sta letteralmente esplodendo, non solo Bitcoin, ma anche sta iniziando il settore dei meme token, dopodiché andiamo a vedere un meme che in particolare è esploso recentemente, Flochi, Flochi interessante, ok la action in questa fase di mercato, vedete qui sta esplodendo, quindi anche in ottica scalp si può valutare, ok, eventualmente una entry, attenzione che ha fatto molto sul giornaliero, io lo vedo per lo più in ottica scalp, dopodiché anche ieri nel gruppo Cowboy si è andati un po' a tradare ok Pepe, quindi abbiamo fatto anche qui qualche numerino, e Pepe sta facendo numeri pazzeschi, ora, seguisse quello che ha fatto Shiba Inu i tempi, può breccarli, ok 5000, secondo me siamo un po' in anticipo, io mi sono posto anche questa line sui due USA, quindi attenzione che insomma Pepe ci abitua anche a bei scarichi e potremmo tornare in queste zone, comunque complimenti a che hai preso Pepe perché praticamente in una settimana è andata a fare quasi un 3x, quindi assurdo quello che è successo su Pepe, infine ti ricordo che se tu vuoi migliorare le conoscenze all'interno del mondo cripto, vuoi iniziare a setare una strategia, vuoi iniziare a fare numeri, ti ricordo che poi per notare la tua collega gratuita andrò a vedere se primo sarai idoneo al gruppo Cowboy e secondo quelle che sono letteralmente le tue esigenze, e per cui se è piaciuto questo video ti ricordo di suggerire un like, iscriviti al canale, e noi ci vediamo presto, hasta la vista... Omm... 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 Omm...